ciao a tutti e benvenuti siamo qui in presenza di Claudio Cipullo nostro amico spirituale oggi ti chiederemo se ci puoi dare una piccola meditazione da magari fare durante il giorno sì questa meditazione è molto uno può fare dovunque non ha bisogno di circostanze particolari anche se è seduto in Brahma ad esempio questa meditazione è tratta dall'altoqualigione di Lama Kanchen quando ispiriamo con il suono OM mentale naturalmente mentalmente ispiriamo al suono OM il nostro corpo completamente si riempie di luce bianca poi tratteniamo brevemente il respiro con il suono A e il nostro corpo parole e mente si riempiono di luce rossa e infine ispiriamo con il suono KUM e il nostro corpo parola e mente si riempiono di luce blu questo è tutto grazie a voi che ci avete seguito e buona fortuna con questa meditazione grazie a tutti